Ciao sono Magnus e oggi vi racconto più o meno nei dettagli che cosa mi è successo in queste ultime due settimane perché sono scomparso cercherò di parlare comunque un po' a bassa voce ogni tanto tostisco ancora quindi farò dei tagli speriamo naturalmente di non avere problemi prima di spiegarvi tutto quello che è successo quello che penso di mettere in mezzo anche un avvocato vi dico che oggi uscirà anche il video di Stronghold domani riprendiamo anche una volta sempre con FC 24 con la carriera ci stiamo riprendendo mano mano allora per chi naturalmente mi ha seguito in questi ultimi messaggi che ho rilasciato su YouTube nella community sono stato colpito da un'influenza non è Covid perché abbiamo fatto il test non era Covid ma dà un'influenza abbastanza forte ma forte non dal punto di vista dell'intensità perché comunque febbre altissima non ho mai avuto massimo arrivare a 38 sono abituato a febbre molto più alta poi è rimasta stazionata stazionare più o meno intorno ai 38,5 cioè 38,37,5 37,5 37,4 più o meno tanto avevo sempre tosse molto forte dolori francamente però non andava via restava stabile e non andava via tutto questo per una settimana naturalmente ci tengo a precisare che se l'è beccato prima mia figlia a scuola poi mia moglie che ha beccato quello più blando e naturalmente poi io che si è beccato quello più forte cioè tosse febbre no lasciamo perdere raffreddore che cosa è successo? dopo una settimana ho chiamato il mio medico per chiedere per quale motivo le cose andassero troppo a rilento perché lui mi ha detto ma da quando tempo non ti fai le analisi? generalmente me ne faccio più o meno dopo un anno e mezzo due anni escono di base sempre abbastanza buone lui ha detto vabbè infatti le analisi magari nel momento in cui aspettiamo il risultato delle analisi se è anche già guarito ci togliamo il pensiero quindi ho fatto tutta una serie di analisi generali cioè analisi generali arrivano risultati lunedì allora voi sapete voi sapete non so se sapete ma in pratica quando i risultati sono sballati non sono conformi nel range che vi viene prefissato compaiono o degli asterischi oppure una linea comunque un asterisco un segno ce ne erano parecchi ma cosa molto strana perché francamente io l'unica cosa che ho un po' più alta è il colesterolo ma più alta nel senso che arrivo a 2,10 questo è stato il mio massimo più o meno c'ho 190 180 poi dipende dai periodi è l'unico valore invece c'erano parecchi tanti valori tutti sballati ma io ho pensato ho detto vabbè forse perché è un periodo che sto assumendo medicine anche se non è che ne assumevo tanti era un po' strana sta cosa però mando le analisi al mio medico di base che generalmente mi risponde dopo un giorno tramite whatsapp invece lui risponde dopo un'ora e lui dice ma non ti facevi analisi da un anno e mezzo sono usciti questi valori eh sì sono usciti questi valori secondo me dobbiamo fare un po' degli accertamenti perché è strano che ti escono tutti questi valori sballati queste sono analisi di di una persona molto più grande perché c'è questi valori così così alti ma vabbè comunque non ti preoccupare eh però è meglio che chiami uno specialista eh adesso ti do il numero di uno al quale devi andare così magari cerchiamo di capire eh un po' di valori che però mi preoccupava un po' più di tutti era eh un valore per ciò che riguardava la ehm non mi ricordo come si chiama comunque la parte tumorale eh il valore doveva essere meno di 2,5 io avevo 2,1 ok è meno di 2,5 pre alto allora questo valore un po' mi ha messo un po' di ansia tutto questo vi ricordo che è cominciato eh lunedì pomeriggio più o meno perché l'analisi eh il prelievo l'ho fatto eh di venerdì eh quindi lunedì mi sono arrivati i risultati e eh dal lunedì pomeriggio è iniziato questo calvario ma non ti preoccupare non è niente così martedì contatto lo specialista mando anche l'esame allo specialista eh lo specialista prima mi dice che eh ci dovevamo vedere per fine settimana quando stavo un pochettino meglio dopo che gli mando le analisi mi dice secondo me se riusciamo vediamoci tra mercoledì e giovedì allora io sinceramente lì per lì stavo veramente iniziando a pegarmi addosso perché i valori erano sballati eh i valori erano sballati questo valore era molto vicino a un valore eh che mi preoccupava a te che sta succedendo quindi ho passato fondamentalmente è un motivo per cui alcuni di voi mi hanno anche scritto ma francamente vi dico la vita è stato un momento in cui non riuscivo proprio a fare niente da lunedì pomeriggio a mercoledì sera più o meno a mercoledì sera io sono stato così con questo pensiero perché poi mercoledì alle 18 10 18 tra le 18 10 e 18 15 mi arriviamo a telefonata e pronto buonasera parlo col signor Punza Andrea si sono io salve siamo il centro dove ho fatto le analisi noi volevamo comunicare che ci sono stati dei problemi con il server e con i file per cui le manderemo tra un'oretta i risultati quelli giusti perché quelli che lei ha ricevuto sono sbagliati io in quel momento vi dico la verità non ho detto niente tant'è che dalla signorina all'altra parte mi ha anche detto pronto? pronto signor Punzo pronto? ho detto sì sì sono io non ho capito avete sbagliato a fare le analisi sì 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 avevo sbagliato a fare le analisi non si preoccupi comunque arriveranno presto ha capito? io ho semplicemente detto siete dei criminali e basta è un po' attaccato dopo un'ora pure meno mezz'ora mi sono arrivate le analisi tutte abbastanza conformi naturalmente io il giorno dopo sono andato ad un altro centro ho fatto di nuovo le analisi perché il mio medico mi aveva comunque consigliato di rifarle e sono uscite comunque ancora più buone perché comunque stavo smaltendo anche medicinale che non prendevo più e quindi effettivamente avevano veramente sbagliato l'ho detto parlando pure con il mio avvocato perché sinceramente io mi rendo conto che si può sbagliare assolutamente per due giorni cazzo due giorni porca miseria cioè alla fine parlando poi con una del del centro una segretaria del centro avevano scambiato le mie analisi con una persona del 44 di 79 anni capisco tutta la loro buona volontà però francamente far aspettare di dire di aver commesso un errore 22 due giorni mi è sembrato veramente eccessivo comunque è stata una bella esperienza bella intensa fortunatamente andando tutto bene riprenderemo mano a mano poi tutte le varie serie spero di riuscivi a portare vi dico la verità pure avatars provo a farvi qualche video comunque ho visto che alcuni l'hanno già portata ne hanno parlato anche molto male e se vi piace magari la continuiamo fino alla fine ci vediamo sotto il prossimo video bye ciao 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 ciao